tanti termini punto f attraverso francesca r 11 giugno 2023 a cura di vb e di laura nova anna maria voi avete detto che siamo in un passaggio da un'era a un'altra in altri luoghi dicono che questa cosa dovrebbe essere imminente ora l'imminente nostro è diverso dall'imminente vostro tutte queste guerre tutte queste rivolte tutte queste insurrezioni che stanno avvenendo tutte queste ferratezze contribuiscono a questo passaggio ci potete dire qualcosa di più michelle le ferratezze contribuiscono al passaggio no le ferratezze sono la manifestazione della non conoscenza della nuova razza che si interseca con la razza attuale e che permette un passaggio vibratorio maggiore e più rapido per l'esperienza che la razza attuale deve vivere nel frattempo la razza che esperisce inizialmente le violenze peggiori incomincia il proprio processo di conoscenza il conoscere l'esperire incominciare a smussare e a produrre karma per l'io è fondamentale e nello stesso tempo è fondamentale per una razza che deve fare un salto vibrazionale importante perché permette un nuovo passaggio evolutivo sia a livello di disincarnato che a livello di incarnato perché vedete il passaggio di una razza è un salto viene detto salto vibrazionale viene detto salto quantico viene detto passaggio tanti termini che vogliono dire la stessa cosa è semplicemente una elevazione vibratoria di massa di un certo gruppo numero quantitativo di conoscenze che hanno terminato una fase del ciclo incarnativo una fase perché la prima fase fondamentale è quella che porta una razza al processo di conoscenza attraverso la non conoscenza che quindi inizia il proprio processo evolutivo che non sa che cos'è l'amore ma sa perfettamente cos'è l'io cioè il non amore